Una quarantena non solo a parole. 40 e più giorni ormai sono trascorsi ed il nemico silenzioso è ancora in agguato. Dopo aver vinto in avvio molte battaglie, giocando sul fattore sorpresa, ora pare meno imprevedibile e di conseguenza più controllabile, anche se per conseguire la sospirata vittoria finale bisognerà impegnarsi ancora a fondo tutti. Dalla mattina dello scorso 8 marzo niente è stato uguale a prima. La notte precedente sarà ricordata come quella dell'assalto ai treni a Milano ed in tutto il nord Italia, da dove chi aveva parenti al sud scappava con la falsa convinzione di mettersi al riparo. Un errore figlio della paura grazie al quale il virus si è fatto strada anche sotto il rubicone. Per fortuna pare non ha rotto gli argini grazie a decisioni forti e comportamenti nella stragrande maggioranza dei casi responsabili. Abbiamo fatto appena in tempo ad omaggiare le donne delle mimose, ma non abbiamo potuto festeggiare i tanti Giuseppe di papà con le zeppole dritto perché nel frattempo barre e pasticcerie sono state chiuse. La pizza ormai rigorosamente fatta in casa come dolce e c'è chi ha ripreso e imparato a fare anche il pane sotto il proprio tetto. Neanche la Pasqua è stata la stessa di sempre con le chiese chiuse e le messe in riti in tv. Da settimane non ci si stringe la mano, niente abbracci e baci perché ora ci proteggiamo con guanti e mascherine che per strada ci rendono stranieri anche ad occhi e amici. In questi 40 giorni di quasi totale clausura però il tempo non si è fermato, semmai è trascorso più lentamente. Ognuno ha avuto la possibilità di riflettere, di riscoprire la sua natura più profonda, di ripristinare un dialogo con le persone con cui divide spazi, magari anche angusti, dopo aver per anni proiettato aspettative e sogni fuori dalle mura di casa. Ci stiamo conoscendo e riconoscendo meglio e se così sarà, quando la vita tornerà a scorrere, secondo cadenze e gesti di cui ora sentiamo la mancanza, potremo scoprirci diversi, magari migliori. Intanto ci consoliamo guardando le immagini di un pianeta, il nostro, che appare più pulito e sembra si stia rigenerando nell'attesa di tornare ad ospitare l'umanità in ogni angolo, pronto ad offrirle una nuova opportunità per dimostrare di aver capito come rispettarlo e ringraziarlo per tutta la bellezza che ci regala. E di opportunità avremo bisogno tutti quando l'emergenza sarà alle spalle. Non bastano le soluzioni, tampone, gli aiuti, una tantum e le solite promesse. Ci vorranno fatti concreti, scelte coraggiose ed illuminate che diano la fondata speranza che esista una visione di insieme più ampia e più elevata. Mentre medici e scienziati dovranno mettere a punto le armi per neutralizzare il virus, toccherà alla classe politica dimostrare di aver compreso appieno il suo ruolo, dando risposte certe e creando le premesse per un rilancio economico che non lascia indietro nessuno. 40 giorni sono passati, la guerra prima o poi sarà vinta, ma oltre le mascherine e il distanziamento tra individui c'è bisogno di un segnale forte da parte dei governanti. La salute è la prima cosa, non v'è dubbio, ma altrettanto importante e non meno fondamentale per ognuno è il nostro lavoro.